Il canto sesto del Paradiso di Dante è occupato interamente dal discorso dell'imperatore Giustiniano, che risponde alle due domande che il poeta gli aveva rivolto alla fine del canto precedente. Svela quindi la sua identità e spiega la condizione degli spiriti del secondo cielo. L'argomento del canto è politico, così come accade anche nel sesto canto dell'Inferno e del Purgatorio, in un movimento ascendente in termini di importanza che va dall'Inferno, dove il poeta parla della sola Firenze, al Purgatorio, dove parla dell'Italia, al Paradiso, dove il tema trattato è appunto l'Impero. Giustiniano si presenta in modo alto e solenne come l'imperatore romano artefice sia della riforma legislativa che prese il nome di Corpus Iuris Civilis e che diventò la base del diritto di tutto il mondo romanizzato del Medioevo, sia della vittoriosa spedizione in Occidente che egli stesso affidò al generale Belisario. Entrambe le imprese hanno goduto del favore divino, ci ricorda il poeta, addirittura l'emanazione del Corpus sarebbe stata ispirata direttamente dallo Spirito Santo e ciò sottolinea nella visione di Dante l'importanza per il mondo della creazione dell'Impero, di cui Giustiniano in una lunga digressione ripercorre le vicende attraverso il volo di un'aquila, simbolo politico e militare del dominio romano. Si va quindi dalle origini troiane al periodo monarchico alla creazione della Repubblica fino ad arrivare alla nascita del Principato con Cesare e Augusto, voluta da Dio per unificare il mondo sotto un'unica legge e favorire in questo modo l'avvenuta di Cristo, crocifisso sotto Tiberio e questo, secondo il poeta, l'evento centrale della storia umana che ha la funzione di salvare l'intera umanità, seguito dalla distruzione di Gerusalemme da parte di Tito. Negli anni seguenti l'Impero inizia un lento declino che culmina nel trasferimento della capitale a Bisanzio e nella successiva divisione tra Oriente e Occidente. Si arriva poi a Carlo Magno, protettore della chiesa contro i Longobardi e quindi legittimo erede dell'autorità imperiale. Terminata questa digressione, per bocca di Giustiniano, Dante lancia un'invettiva contro Guelfi e Ghibellini che per motivi diversi oltraggiano il sacrosanto segno e sono responsabili dei mali dell'Europa d'inizio 300 e, nello specifico contro Carlo, secondo D'Angiot, che non deve illudersi che la monarchia francese possa sostituirsi all'autorità dell'Impero. A questo punto Giustiniano risponde alla seconda domanda di Dante e spiega che il cielo di Mercurio ospita gli spiriti che in vita hanno perseguito onore e fama. Così facendo hanno però inevitabilmente ricercato in minor misura l'amore divino e quindi godono di un grado di beatitudine inferiore rispetto agli altri beati. Nonostante ciò sono contenti della loro condizione poiché sanno che la giustizia divina gli ha dato il giusto premio per le loro azioni. Il canto termina con Giustiniano che indica Dante l'anima di Romeo di Villanova, ministro del conte di Provenza Raimondo Berengario. Vittima delle calunnie e degli altri cortigiani, Romeo fu costretto a lasciare la corte vecchio e povero, ma mantenendo la sua dignità pur essendo costretto a chiedere l'elemosi. E' questo un destino ingiusto che accomuna Romeo a Dante stesso che durante il suo esilio dovrà mendicare l'aiuto dei potenti, causato, questo destino ingiusto secondo il poeta, dall'assenza di un potere imperiare in grado di applicare le leggi e assicurare la giustizia. Molto bene questo è tutto, spero che questo video vi sia utile, come sempre vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi. Alla prossima!